Il numero numero 13 di Ateoni, numero 14 di Ateoni, numero 15 di Ateoni, numero 16 di Ateoni. Di mano, bambini, piccioni, pignone, vino, sorprimi, caffetti, manali, via, saggiano, minuti. In banchina con il numero 19 di Silenzi, con il numero 13 di Soma Teric, con il numero 14 di Fornetti, con il numero 15 parlato, con il numero 13 di Soma Ricani, allenatore il signor Giorgio Romigliani. Polizio! Polizio! Trazbo! 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 recorders Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.